Il corso obiettivo Redditività, processi e competenze di pricing nella pratica aziendale si distingue per il suo approccio pratico e strategico al pricing, cruciale per migliorare la redditività aziendale. Fornisce strumenti concreti e metodologie avanzate per una gestione del prezzo più consapevole e allineata alle strategie aziendali. Si focalizza su un miglioramento delle competenze manageriali nel processo di pricing, contribuendo a posizionare l'impresa in modo competitivo sul mercato. Integrando le decisioni di prezzo nelle strategie a breve e medio termine, il corso aiuta a ottimizzare i risultati economici e a sostenere la crescita reddituale dell'azienda. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.